Se riusciamo a dire la verità intorno a quello che realmente sta accadendo a livello di migranti, abbiamo già fatto un passo avanti, molto molto importante. Però dopo bisogna avere il coraggio di dare delle risposte. Basta balle, dice proprio così Antonio Calò sulla questione migranti. Il Partito Democratico Trevigiano lancia ufficialmente i suoi rappresentanti in corsa alle elezioni europee di fine maggio, Calò e Laura Puppato. In attesa che venerdì sera alle 18.30 in Piazza dei Signori arrivi il capolista Carlo Calenda. Il Partito Democratico ha presentato il suo programma per questa campagna per le europee, incentrato su quattro capisaldi. L'Europa deve avere al centro le persone, deve essere vicina ai territori, un'Europa protagonista nel mondo e un'Europa profondamente democratica e federale, dove le protagoniste siano le regioni e la filiera delle autonomie locali. Alza Calò sul nodo immigrazione ribadisce la sua proposta di accoglienza a 6 persone ogni 5.000 abitanti, sottolineando come lo scambio Europa-Africa vada gestito in chiave positiva. Se noi riusciamo a creare un asse positivo tra la loro spinta, l'innesto, io come lo chiamo, giovane, ma con tutte le risorse che loro hanno, ma in un'ottica però paritetica, allora la cosa cambierebbe completamente. Tema della difesa dell'ambiente è primo amore e cavallo di battaglia di Puppato, di cui l'Europa deve farsi carico, dice, in maniera significativa. Noi non abbiamo un pianeta B, lo sta dicendo in questi giorni molto efficacemente Greta. In realtà è bene capire che questo pianeta B non solo non ce l'abbiamo, ma abbiamo bisogno di politiche che guidino a livello europeo rispetto al resto del mondo la grande sfida dell'ambiente. Europa che deve essere messa nelle condizioni di legiferare, il Parlamento lo fa, ma il Consiglio non ratifica e deve essere in grado di rappresentarsi all'esterno. Riuscire a mettere in campo delle soluzioni che possano trovarci a sfidare il resto del mondo, sia con la difesa, sia per quanto riguarda la politica estera, come Europa. Altrimenti non ci resteranno che le beffe che Trump si fa di noi perché non siamo Stati Uniti d'Europa, non siamo l'Europa dei popoli.